buongiorno e bentrovati da scandal quest'oggi siamo insieme a fare due chiacchiere in realtà perché le immagini di sfondo sostanzialmente vi illustrano quella che era la super simulativa una modalità che è stata fortemente voluta dalla community e che gaijin attualmente ha inserito doveva essere un test e poi in realtà da test è diventato quasi ufficiale perché adesso tutti gli eventi non la simulativa insieme ma gli eventi in simulativa che includono carriere sono fatti con questa sorta di super simulativa ed è una modalità che effettivamente fa piacere fare e se war thunder diventerà così sarà veramente una delle cose più belle da giocare in assoluto più belle davvero da giocare in assoluto è un gioco in cui ci si può perdere la testa e fa sorridere il fatto che è stata la community di ragaijin che cosa doveva fare quella community stessa che non ha mai ascoltato e ascoltato veramente molto poco adesso vi faccio vedere alcune immagini tratte da queste super simulative in cui mi cimento sia con combattimenti aerei sia in combattimenti di terra chiaramente i combattimenti di terra sono molto più vicini a quello che è stato fatto sul canale molto più spesso adesso vi racconto anche che cos'è questa super simulativa questa modalità fortemente voluta dalla community altro non è che una modalità in cui noi siamo al simulatore al cento per cento non c'è minimappa non ci sono spot non c'è assolutamente nulla di nulla di nulla e questa è una delle cose più belle in assoluto che mi è capitato di fare è una modalità fantastica oltremodo è una modalità che è talmente immersiva che non assolutamente non vi rendete conto dei minuti che passano perché siete talmente all'interno delle cose talmente avvinghiati al vostro veicolo o velivolo e con la col terrore che qualcosa vi spunti ai lati a vostre ore sei che il tempo passerà e voi rimarrete a giocare questa modalità assolutamente senza nessun tipo di concezione del tempo che sta passando una modalità davvero bella e io penso che se war thunder diventerà così sarà un gioco da perderci la testa davvero è davvero mi ripeto fa ridere il fatto che loro non l'abbiano mai pensata tutta la gente ha pregato a elemosinato perché gaijin facesse modalità diciamo un po un po meglio di quella che sono adesso no e questa modalità è veramente il meglio del meglio del meglio ci vuole chiaramente per volare un hardware un po un po impegnato diciamo qualcosa per potersi guardare intorno ti potrà chi era che sto usando io adesso ma non è indispensabile molti usano gli tucker tipo quello stucca che state vedendo dl2 in maniera molto molto efficace anche voi pilotando col mouse e quindi non è necessario quindi è molto friendly user questo questo gioco adesso tiriamo giù questo qui ed è un modo di giocare totalmente diverso da quello che è attualmente war thunder perché nessun caccia supera i mille metri di quota raramente diciamo perché le forze di terra sono il il centro della battaglia il la parte importante la cattura dei punti è la parte fondamentale e l'aria è il supporto quindi si avvalorano gli attacker quindi si avvalorano anche le triple a quindi le artiglierie mobili quindi google blitz il coelient o il non so quali altre non mi ricordo quelle wilber wind lost wind tutte quelle tedesche me le ricordo e adesso abbiamo finito le immagini sul sul sui velivoli adesso siamo sui veicoli i veicoli sono fottutamente belli scusate il il termine è fottutamente bello andare sui veicoli ma perché perché vi dico questo perché senza l'ausilio della mini mappa che vi dice qua c'è un caccia carri la cinque simulativa realistica a livello di no scusate arcade realistica a livello di carri al di là del fatto che vedete il carro da fuori che può essere probabilmente l'unica cosa positiva il fatto che voi abbiate un nome enorme sopra la vostra testa vanifica tutto quello che di tattico e strategico ci può essere quindi se voi volete andare a fare un giro in campagna larga per riuscire a fare flanking sulle linee nemiche arcade e realistica non ve lo permetteranno mai simulativa ve lo permette poco perché al primo tiro oppure comunque loro lo sanno in mini mappa che bisogna praticamente stare con gli occhi incollati al lato basso destro perché voi dovete assolutamente capire da dove proviene il proiettile da dove è stato spottato il carro da dove stanno arrivando ecco questo è il vero concetto di simulativa che è un po triste in realtà ma questa modalità vi ovvia tutto questo cioè a qualche cosa di veramente molto superiore quindi se voi volete fare flanking poi vi nascondete fate un giro largo uscite con i vostri due tre amici e sparate sul lato di tutti i carri pesanti che stanno cercando di tenere le posizioni se voi vedete un cacciacarri o uno dei loro main tank che è piazzato voi potete cercare di fare una manovra di aggiramento che è impossibile nella simulativa perché verrete visti immediatamente perché sulla mini mappa comparirà il vostro simbolo in maniera molto evidente ai vostri nemici questa invece no questa signori è una modalità che davvero se avrà futuro e lo sta avendo io all'inizio l'avevo provata mi era piaciuta molto però dicevo coglioni come sono quelli della gaijin probabilmente non la inseriranno perché tutto quello che è nella community è un bene e i paesaggi sono stupendi i paesaggi diventano importanti il sapersi muovere diventa importante il l'avere cautela diventa importante diventa importante anche il saper utilizzare la skin giusta al momento giusto e quindi riuscire a mimetizzarsi riuscire a fare fuoco esclusivamente quando è necessario o quando si è sicuri di andare a bersaglio perché il fare fuoco così giusto per sparare vi metterà solo in evidenza perché chiaramente il bagliore e il fumo del vostro del vostro tiro del vostro proiettile che parte dalla canna e chiaramente risulta essere l'unica cosa evidente che si vede sulla mappa quindi dalla community è stata richiestissima e apprezzatissima questa nuova modalità modalità che in realtà mette un enorme divario tra quello che è la classica modalità che tutti i videogiochi vedete voi siete i classici supereroi che con sinistra mouse salvate il mondo giochi irritanti ma irritano quei giochi lì non so cosa farci diventate sempre dei cazzo di campioni del mondo in realtà non lo sareste mai diventati però grazie a un tasto preciso del mouse voi lo diventerete questo mi irrita in maniera pazzesca perché non ti fa lavorare il cervello ed è chiaro che le mie requisiti sono diversi dei vostri chiaramente non mettiamo premettiamolo prima di avventurarci in questo discorso io gioco come tanti di voi giocano perché al loro tempo libero abbinano quel fattore di sfida come quando andate a giocare il mercoledì del calcetto come quando andate a fare qualsiasi tipo di attività il bullying tra amici sì certo ci si diverte vero tiri la palla tiri giù i birilli ok bevi una birra fai due chiacchiere però c'è anche da dire che c'è una sfida di base insomma il vostro amico che vi batte tre volte su tre vedete cavoli ma non è possibile allora mi devo impegnare di più e quindi questo questo sentimento questa diciamo voglia di rivalsa che è molto friendly e molto amichevole non è niente di ah io vorrei che tu schiettassi è molto friendly molto tranquilla però è una rivalsa che ti fa utilizzare il cervello ti fa utilizzare la materia grigia molti di voi magari non cercano questo nel videogioco non hanno questo tipo di sentimento che vuoi metterti alla prova voi virtualmente vedere se saresti stato capace di fare qualche cosa magari se nemmo morti tutti in una guerra mondiale chiaramente anzi guarda senza quasi dubbio in uno scontro come questo però va da sé che alcuni giocatori invece magari richiedono una sfida molto più tranquilla perché arrivate a casa stressati dal lavoro vogliono un pochino sfogarsi perché magari seguono il loro amore della vita a distanza che era chiuso in un persone tantissime persone che giocano videogiocano per i più svariati motivi però a loro non serve questa modalità questa è una modalità che genererà a loro molta frustrazione perché è una modalità dove la testa va attivata per bene ed è una modalità che mi piace mi piace perché ti fa ti fa riattivare quei tre neuroni che ti sono rimasti che che il mondo di oggi ti ha fatto rimanere perché oramai tutti ti dicono tutto come comportarti cosa dire che corsi fare che profumo mettere oramai non c'è più nulla disconosciuto il mercato conosce tutto conosce talmente tutto che mettendo googlando le cose addirittura tu dopo un po ti ritrovi gli spot anche super il sedere perché dici cazzo ma ma non era quello che avevo cercato ieri ma perché mi compare in tutti i banner che io voglio un autoradio uno zaino un corso alunni para universitario e questa roba ti irrita in maniera particolare non devi neanche più pensare non devi neanche più cercare ci pensano questi mezzi fottutamente tecnologici a far sì che tu abbia le tue esigenze a far sì che tu scelga determinati prodotti e il mercato e sono sono cose che fanno venire la nausea perché per me non ci dovrebbero essere però è l'evoluzione naturale della nostra razza ma torniamo su queste cose scusate se poi io ogni tanto divago io non voglio togliere niente nessuno probabilmente voi avrete delle opinioni totalmente diverse dalle mie quindi rispetto anche le vostre tranquilli questa modalità è una modalità che davvero a gran voce adesso le software house si stanno impegnando a fare sempre software più per i po dotati piuttosto che software che si possano caratterizzare per la estrema capacità di mettere in sfida due giocatori due tre giocatori ci sono e chiaramente videogiochi però sono molto poco fanno molto poco fatturato e allora si predilige il fatturato il vill denaro a quello che potrebbe essere un qualche cosa per migliorare un po tutti e questo è un po da da di per sé anche un po di nausea perché in realtà diciamo che avvalorare la quantità sulla qualità e secondo me è sempre un peccato peccato perché molti di noi invece vogliono una sfida interessante molti di voi non la vogliono ma questa è una di quelle modalità che valorizza sicuramente l'aspetto tattico non tanto strategico strategico dal punto di vista che devi scegliere i veicoli giusti velivoli giusti con la tua squadra può finalmente dare un senso alla squadra e alcuni scenari tipo questo che vedete adesso qui pioveva e quindi la stessa mappa con gli stessi velivoli veniva affrontata in maniera totalmente diversa ma sapete perché perché pioveva perché la visibilità era totalmente ridotta e talmente ridotta da far sì di avvalorare quello che erano le potenzialità dei carri russi del flanking del 30 t 34 scusate mi sto intortando ormai c'ho lingua e la gola secca ha bisogno di acqua vabbè comunque arriviamo fino alla fine quindi fino ad arrivare a sviluppare con gli stessi carri la stessa mappa le stesse cose caratteristiche di gioco totalmente diverse e quindi in questa mappa precisa noi ci siamo trovati a cambiare totalmente la nostra strategia e stavo giocando con alcuni membri della mia squadriglia perché era cambiata un semplice dettaglio la visibilità e questa è profondità allo stato puro questa è esaltante questa è veramente una cosa straordinaria davvero e mi ripeto per la 174 volta voluta dalla community non dalla gaiji gaijin ha sicuramente cercato di favorire tanto più la quantità il soldo sopra ogni cosa valore che abbiamo imparato anche nella società di oggi a tenere bene in considerazione ricordate sempre che queste mappe queste cose questo sviluppo è ancora quasi un alfa e quindi spingete spingiamo facciamo di tutto per riuscire a far sì che questa diventi la nuova simulativa farebbe tornare persone che nel passato hanno mi ripeto lasciato work thunder per svariati motivi ma soprattutto perché mancava questa sfera simulativa che in questo momento questa modalità sta avendo io vedo gente tantissima io spero che le squadrille vengano diciamo un po messe a posto gli sia valore cioè ci vuole poco davvero tipo un simbolo di squadriglia sugli aerei sui carri potrebbe essere una bella cosa un poter gestire i membri in maniera diversa le squadrille noi abbiamo pagato non so quanto 15 euro una roba del genere per averle ne abbiamo fatto alcuni alcune squadrille ne hanno più di una quindi ha pagato 30 euro 45 euro la squadriglia non è niente altro che un involucro che viene buono esclusivamente quando voi avete qualche torneo allora il torneo allora sì torneo devi essere scritto una squadriglia ma sì che cosa cazzo ce ne facciamo delle squadrille non si sa ancora potevano mettere autonomamente una tag davanti al nome che tanto è la stessa cosa va bene anche per questa volta è tutto guardatevi sempre ad ore 6 non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima ciao ciao